Caro Frank, aspettavamo solo te per aprire le porte dei nostri dati a un nuovo social conservatore. Buongiorno e bentornati al Caffettino, sono Mario Moroni e anche questa settimana parleremo insieme di digitale, di business, di marketing, ma oggi parliamo qui all'interno del Caffettino giornaliero di un nuovo social che è appena arrivato, meglio venerdì, è arrivato negli Stati Uniti e oggi in tutto il mondo si parla di Frank, il nuovo social network conservatore su cui non si può bestemmiare. Parliamo spesso di nuovi social e sicuramente vi ricorderete com'è finita purtroppo la campagna elettorale di Trump con Capitol Hill eccetera eccetera. Bene, da oggi in tutto il mondo è attivo Frank, the voice of free speech, ovvero il recupero dei sostenitori conservatori di Donald Trump che appunto sta prendendo vita e consentirà una totale libertà di parola, si potrà dire qualsiasi cosa ad eccezione di tre parolacce e di nominare il nome di Dio in vano, non si sa quale Dio ma credo qualsiasi. Non vi dico in questo caffettino le tre parolacce ma andiamo a analizzarlo e tra l'altro aprite la tab frankspeech.com Insomma dalla landing page e dal sito non mi sembra una grafica stellare, anche se insomma dalle indiscrezioni e dal video del fondatore Mike Lindell che è il fondatore anche dell'azienda MyPillow, dei cuscini fondamentalmente, dice che questa sarà una combinazione di stampa, radio e tv e che offrirà la possibilità appunto di fare sia diciamo post testuali che anche live streaming. Ora detta così non mi sembra una grande possibilità ma la presentazione chiaramente fa accento su che cosa? Sul fatto di non essere né su Facebook né su Twitter né su YouTube, insomma non essere nei posti che loro questi considerano cattivi. E tra l'altro uno stratagemma, il fatto di non avere un'app che può essere bannata di App Store, da Google e via dicendo per Android non ha un'app, è tutto su browser, mi fa un po' paura perché di norma quelle applicativi che vanno solamente su browser hanno delle funzionalità estremamente limitate, però se pensiamo al target di questo social cioè quindi una piccola nicchia del popolo americano conservatore, beh può darsi che lo utilizzino un po' come il giornale da un certo punto di vista. Staremo a vedere quello che succede, la vera domanda che ci facciamo è la solita c'è bisogno di un nuovo social? Non credo. Avrà senso suddividere di nuovo internet tra buoni e cattivi? In realtà non ci è riuscito nessuno perché poi per parlare veramente alla popolazione bisogna convincere anche quelli che non votano per te che quindi stanno chiaramente su Facebook. Piuttosto stiamo vedendo come ultimamente ci siano non tanto social differenti ma quanto internet diverse, la comparsa di nuove internet, quella americana, quella europea, quella russa e quella cinese questo sì che mi preoccupa, piuttosto che nuovi social mi preoccupa il fatto che ci stiamo dividendo in continenti o in aree diciamo così politicamente gestite per l'informazione di internet. E con questo concludiamo il caffettino primo della settimana, quello di lunedino e ci sentiamo da nel mattino alle 7.30 puntualissimi e se vi va appunto mettete un bel follow a questo podcast perché magari ci risentiamo domani. Che ne dite? Fate i bravi! Grazie! 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 Grazie!